Buonasera, ben ritrovati. Nuovo spazio dedicato al telegiornale. Disordini questa mattina in molte città italiane, Roma e Torino in particolare, sono quelle che hanno subito le conseguenze peggiori. Stiamo parlando della protesta degli studenti e secondo la rete degli studenti hanno manifestato contro quelle che loro definiscono ingiustizie. Costi troppo elevati per studiare e mancanza di attenzione da parte di questo governo alle problematiche che li coinvolge. Sono stati realizzati cortei, flash mob e sit-in. A Torino sono state attaccate alcune foto dei leader di Lega e Movimento 5 Stelle con il volto imbrattato di vernice rossa. Dei manichini con il volto dei due leader sono stati addirittura bruciati. Terrore in provincia di Verona a Legnago. Un uomo ha seminato il panico questa mattina, ha rubato un camion, poi si è messo a guidare come un pazzo colpendo le auto in sosto. Ovviamente aveva fatto temere il peggio. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo con un inseguimento roccambolesco. Vi raccontiamo questi momenti. Momenti di terrore a Legnago, in provincia di Verona. Un marocchino ha avvicinato un operatore ecologico, lo ha buttato giù dal mezzo e si è impossessato del camion. Una volta alla guida ha iniziato a correre per le strade seminando il panico. Ha colpito numerosi mezzi in sosta. Sul posto sono piombate molte auto dei carabinieri ed è scattato l'inseguimento. Dopo una decina di chilometri, il mezzo, imbottigliato da un blocco stradale organizzato dai carabinieri, ha centrato un'auto a tutta velocità facendola impennare e finire su un veicolo che stava sopraggiungendo da un'altra direzione con a bordo una donna. A quel punto l'uomo è stato bloccato e arrestato. Sono stati momenti concitati nei quali quattro carabinieri sono rimasti feriti. L'autore del folle gesto per il quale sono in corso indagini è stato accusato di tentato omicidio, danneggiamento, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. In corso del popolo ha mestre emergenza sicurezza davanti al liceo per una valigetta in pelle abbandonata. Sul posto sono arrivate immediatamente le forze dell'ordine assieme agli artificieri. La borsa è stata fatta brillare e terminate le procedure che vengono predisposte automaticamente durante questi casi di allerta, l'emergenza è rientrata. E Matteo Salvini ha parlato oggi di sicurezza spiegando che è impegnato per rafforzare tutte le questure d'Italia. L'intento è quello di assumere circa 8 mila uomini nelle forze dell'ordine per migliorare la sicurezza in tutto il paese. e annuncia che a questo scopo è stato chiesto formalmente, ottenendo rassicurazioni, lo stanziamento di circa 400 milioni di euro nella legge di stabilità. Dal mondo della sanità continua la protesta dei medici, annunciato un nuovo sciopero per il 9 novembre prossimo. Sentiamo le modalità, ma sentiamo ancora una volta i perché. Risorse insufficienti per il fondo sanitario e rinnovo del contratto di lavoro sono queste le motivazioni che hanno spinto i medici della sanità pubblica a indire uno sciopero per il giorno 9 novembre. I sindacati hanno inviato comunicazione alle istituzioni competenti. L'astensione dal servizio durerà 24 ore, ma come previsto per legge, sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili. L'agitazione riguarderà il personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale. Tra le motivazioni anche il mancato incremento delle risorse destinate all'assunzione del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Inoltre l'eseguità delle risorse assegnate al finanziamento dei contratti di lavoro, i ritardi amministrativi nei processi di stabilizzazione del precariato del settore sanitario e il mancato finanziamento aggiuntivo per i contratti di formazione specialistica. Per il 17 ottobre è previsto un sit-in di protesta davanti a Montecitorio. Una seconda giornata di sciopero dovrebbe invece tenersi il 23 novembre, come riporta il sito della Commissione di Garanzia sugli scioperi. In questo caso a incrociare le braccia saranno solo i medici del sindacato, degli anestesisti e rianimatori a eroi EMAC. Intanto in questi giorni si è tenuto un incontro tra il Ministro della Salute e i medici di Medicina Generale per risolvere il problema della carenza dei camici bianchi sul territorio. Convalidato il fermo dell'uomo che era stato arrestato nei giorni scorsi dalla questura di Padova è accusato di quattro spaccate notturne avvenute in centro città a danno di alcuni commercianti. A lui erano arrivati gli uomini della mobile che stanno ancora verificando se allo stesso soggetto possano essere attribuiti altri colpi. Nord africano con numerosi precedenti alle spalle era già stato in detenzione per tre anni. Nelle spaccate a Padova agiva da solo di notte, arrivava in bicicletta, colpiva e poi credeva di far perdere le sue tracce. Spacciava droga per le strade del centro di Treviso, anzi spacciavano droga, sono stati arrestati, si tratta di due ragazzi. I carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso hanno arrestato due giovani spacciatori che vendevano droga in centro a Treviso. Si tratta di due nigeriani, già con precedenti per lo stesso reato. I due, dalle indagini, avvicinavano ragazzi loro coetane in città e gli proponevano l'acquisto di stupefacenti. Sono stati tenuti sotto controllo e sono stati ricostruiti i loro movimenti. Dalla perquisizione nei loro confronti è stata recuperata della marijuana. Era già suddivisa in decine di bustine pronte per lo smercio. È stata pubblicata all'albo pretorio l'affidamento del completamento dei lavori di ripristino e consolidamento del ponte degli Alpini alla ditta Inco di Pergine-Valsugana, vicino a Trento. Si tratta di un passaggio molto importante per la ripresa degli interventi e per il completamento del restauro del ponte di Bassano. Lo sottolinea il sindaco, anche se l'azienda per indicazioni date dal genio civile non potrà riprendere con il cantiere prima del mese di dicembre. Le prossime settimane saranno comunque utili per l'approvvigionamento dei materiali e per la predisposizione dei lavori propedeutici all'intervento. Morte improvvisa tra i giovani arriva da Padova, precisamente dall'Università, una scoperta molto importante. Scoperto dall'Università di Padova un nuovo gene responsabile di una delle cause più frequenti della cosiddetta morte improvvisa giovanile. Si tratta della cardiomiopatia aritmogena, una malattia ereditaria che interessa una persona ogni 5.000 e provoca due morti all'anno ogni 100.000 persone sotto i 35 anni. Il gene è stato individuato da un gruppo di ricercatori dell'Ateneo Veneto coordinati da Alessandra Rampazzo del Dipartimento di Biologia. Il team è riuscito a individuare un nuovo gene coinvolto nella cardiomiopatia aritmogena, il quale produce la proteina zonula occludens 1. Studi precedenti condotti dal medesimo gruppo dell'Università di Padova avevano già portato all'identificazione di sei geni associati alla morte improvvisa giovanile. E adesso come ogni venerdì è arrivato il momento con l'approfondimento e allora passiamo subito la linea all'esperta di storia Marisa Sottovia. Ben ritrovati con la storia, oggi parliamo di Piazza San Marco, una piazza che continua ad affascinare, ad incuriosire e che è stata definita il cuore del mondo. In questa piazza per secoli si è svolta un'intensa attività politica, sono state prese decisioni che hanno cambiato la storia. E allora vediamo come si è formata questa piazza. Intanto è l'unica piazza di Venezia dove abbondano campi e campielli e originariamente era divisa in due perché passava il rio Batario che corrisponde oggi alla posizione dove si trova il caffè Florian e si chiamava Piazza Brolo. Brolo significa orto, significa giardino. Poi ancora, nella parte più spostata, c'era la chiesa di San Gimignano, considerata la chiesa più sfortunata di Venezia. Sorgeva anche un edificio che era simile a un castello, ma bisogna aspettare un'altra data, 828, quando da Alessandria d'Egitto arrivano le spoglie dell'Evangelista Marco. Quindi c'è la necessità di costruire un tempio e inizia la costruzione della Basilica di San Marco che soppianta la precedente chiesa dedicata a San Teodoro, il primo protettore di Venezia. Successivamente viene edificato anche il campanile adiacente. Rio Batario verrà interrato. Andiamo oltre e verranno costruite le procuratie, procuratie vecchie, chiamate anche così, che è quell'edificio destinato all'aloggio e all'amministrazione dei procuratori. La qualifica di procuratore era molto importante perché era la seconda carica dopo quella del doge, poi che aveva il compito di amministrare i beni della Basilica di San Marco nei suoi territori. Andiamo oltre, verrà costruito poi quell'edificio del potere, delle istituzioni e delle magistrature, chiamate anche così, sarà la casa del doge, è un capolavoro di stile gotico veneziano ed è il palazzo ducale. Inizia la costruzione a partire dal IX secolo. Successivamente la piazza viene pavimentata con mattoni a spina di pesce. Da questo momento avranno così l'inizio di tutta una serie di manifestazioni importanti dall'assenza, carnevale, mercato, fiere. Arrivano poi due importanti architetti. Uno è Sansurino, che ha l'incarico da parte del doge Andrea Gritti di progettare la zecca e poi la libreria marciana. Arriva anche un altro grande architetto, che oggi potremmo chiamare Archistar, che si chiama Vincenzo Scamozzi, che ha il compito di progettare le procuratie nuove. Ancora più avanti ci sarà l'abbattimento della chiesa San Geminiano, come dicevamo in precedenza, e verrà edificata da cosiddetta ala napoleonica o procuratie nuovissime. Quindi abbiamo visto le principali tappe che hanno appunto formato questa piazza, piazza appunto definita cuore del mondo e cuore anche ovviamente della città di Venezia, ammirata e apprezzata da milioni e milioni di turisti che vengono da ogni dove. Grazie a Marisa Sottovia. Adesso noi diamo un'occhiata alle condizioni climatiche previste per i prossimi giorni. Prevarranno condizioni anticicloniche con tempo stabile e soleggiato, soprattutto durante questo fine settimana. Lunedì sarà possibile qualche annuvolamento in più, ma sempre in un contesto di stabilità. È tutto per questa edizione. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi do l'arrivederci. Grazie a tutti.